Ciao ragazzi, allora oggi mi prendo due minuti per fare il punto della situazione per quanto riguarda le spedizioni Praticamente sono pronte, martedì viene il corriere, vi porto tutto a casa come sempre E in più mi prendo anche due minuti per rispondere alle persone che sono in difficoltà perché mi stanno scrivendo in parecchi E voglio semplificare una volta per tutte la questione Scusate, mi dispiace veramente tanto vedere persone che coltivano materiale da 4-5 anni e sono sempre lì Sono sempre lì e magari le piante stanno andando anche indietro invece che avanti, va bene? E non c'è una soluzione veloce, bisogna fermarsi e ricominciare da zero, bene? Allora avete comprato quello che vi hanno scritto, avete fatto quello che vi hanno spiegato, ok? E però non ci sono risultati La questione qual è? Avete preso una strada che è il contrario di quella che dovevate prendere fino adesso, ok? Bisogna dividere in due categorie il materiale che avete prima di tutto Allora, pre-bonsai, ovvero nutrizione e sviluppo e costruzione Bonsai, fase di mantenimento, ok? In Italia quante persone, quanti neofiti hanno i bonsai, oggettivamente? Zero Zero ragazzi, tutti abbiamo dei pre-bonsai, me compreso, io ho il pre-bonsai Sono piante in fase di costruzione, ok? Cerchiamo di capire questa cosa È inutile andare a comprare, cioè, mille prodotti per bonsai Quando ancora il bonsai non ce l'abbiamo Cioè, è il punto chiave, il punto chiave di tutto ciò che dobbiamo fare, ok? Bisogna aprire la strada corretta fin dall'inizio Se no, passano uno, due, tre, quattro, cinque anni Torniamo indietro, ok? Si ricomincia da capo dopo Allora, ci troviamo in un momento in cui le nostre piante devono sviluppare ramificazione E quindi andare in progressione Anzi, ve la faccio ancora più facile Pensiamola come il bodybuilding, ok? Quindi, prima si fanno le masse E poi si rifiniscono Prima la massa, poi la definizione, ok? È inutile che andiamo a dare dei prodotti Che sulla carta vanno benissimo Vi ripeto, non voglio screditar nessuno Biogold, lo dico, biogold Costa un sacco di soldi Concime per bonsai, giapponese, il migliore Non va bene sulle vostre piante Non è questione che fa schifo Non va bene per il vostro obiettivo, ok? Diamo questo concime C'ha un 5, un 6 di azoto Sulla carta va benissimo Va benissimo sul bonsai Non sul pre bonsai, va bene? Io l'anno scorso sono uscito fuori con TNT Va bene? Quest'anno uscirò con Genesi Che praticamente è la versione evoluta Se posso dirlo Andrà benissimo per il pre bonsai E anche sul bonsai usato in diverso dosaggio Ok ragazzi? Però è inutile che iniziamo a pensare Sin da subito A fare le foglioline piccoline così O i ramettini fini Non dobbiamo guardare subito alla bellezza Prima si costruisce Anche foglie grandi Va bene ragazzi Perché la pianta deve raccogliere luce Deve fare energia Deve produrre Deve lavorare Allora giù Concime Acqua Acqua Perché se no si prende la strada Che il contrario di quella Che dobbiamo prendere Non voglio arrabbiarmi ragazzi Però molti di voi mi scrivete E mi chiedete Come posso fare Per impicciolire le foglie Ragazzi non dovete pensare A questa cosa ancora Primo Secondo Una volta per tutte Non è dando meno acqua Che si fanno le foglie piccole Ragazzi allora Iniziate a bere meno acqua Di cui avete bisogno Per un giorno Una settimana Un mese Cosa succede Andate all'ospedale Si muore Si muore Le piante muoiono Se gli si dà meno acqua Di quello che ha bisogno Come ve lo devo dire Ok Questa è praticamente La strada contraria Che prendete ogni giorno Passano 3, 4, 5 anni Vi ritrovate ad avere Delle piantine stentate Che stanno lì E che vi guardano Va bene Nei miei video Io faccio sempre vedere Una cosa fondamentale Che prima La pianta deve sviluppare Perché nella sua genetica Ok Deve sviluppare Creare rami Foglie Raccogliere energia E poi vado a tagliare E dopo si taglia Va bene Perché la pianta Ha raccolto energia Ed è pronta Per sviluppare Altra ramificazione Con il taglio Va bene Perché molte persone Mi criticano Amo Fai sempre la stessa cosa Amo Claudio Però Le piante le tratti Tutte la stessa maniera Ragazzi Come ve lo devo dire È così che si fa Se si vogliono avere Dei risultati Per la costruzione Quando si parla Di mantenimento È un'altra cosa Ok Quindi ragazzi Prendiamo la strada Ottimale Fin da subito E nell'arco degli anni Arriveremo Al nostro risultato Che ci siamo prefissati Ok Perché se no Vi ripeto Sarà molto Molto dura Spenderete un sacco Di soldi Ok Io non voglio Screditare nessuno Ma state spendendo Un sacco di soldi È il problema Che non avrete Dei risultati Più avanti Quello è il problema Vi ripeto In Italia Più che altro Abbiamo i pre bonsai Ancora Quindi dobbiamo Indirizzarci Verso Una Diciamo Una manutenzione Che è più Per lo sviluppo La strutturazione Ok È il primo passo Poi dopo Andremo Magari A togliere qualcosa Per rifinire Se no Non si arriva Da nessuna parte Ok Mi dispiace dirlo Ragazzi Però è così Ciao a tutti